Acronis ha sviluppato una piattaforma totalmente in cloud, monoagente e multitenant, che permette ai nostri service provider di erogare attraverso questa piattaforma una molteplicità di servizi completamente integrati tra loro, che vanno dalla protezione dell'email, agli endpoint, al backup, al disaster recovery, servizi che prima erano a completo appannaggio del mondo enterprise, ma che adesso grazie a questa modularità di questa piattaforma sono stati resi accessibili anche al mondo della piccola e media impresa. Ovviamente l'integrazione su un'unica piattaforma garantisce ai nostri service provider la garanzia di una sicurezza integrata, ovviamente attraverso ad esempio il semplice backup, integrato con la nostra cyber security, permette di proteggere anche i dati che sono stati precedentemente backupati, garantendo che prima del restore venga effettuata anche una sorta di scannerizzazione del backup e dei dati, per ripulire il backup prima del suo restore. Quindi l'integrazione offre la possibilità anche di inserire all'interno della nostra console anche brand di terze parti. Quindi questo agevola il lavoro dei nostri service provider che si trovano ogni giorno a dover orchestrare diverse tecnologie da fonti diverse e abbiamo lavorato proprio per aiutarli a risolvere questa problematica e a poterli mettere nella condizione di avere un unico punto di accesso per erogare i propri servizi.